Una benedizione, una carezza, un bacio, una parola per ciascuno. Papa Francesco si è chinato con grande tenerezza su tutti i piccoli ospiti dell'ospedale pediatrico Federico Gomez di Città del Messico, riuniti nell'auditorium Jesús Cumate. Pur in un contesto di dolore e incertezza, l'appuntamento al nosocomio si è svolto in un clima di festa, tra piccoli doni offerti all'uomo vestito di bianco, fotografie per immortalare un ricordo unico e cori. A tutti i presenti, compresi i medici, infermieri e volontari, il Pontefice ha ricordato che è soprattutto l'affetto terapia ad aiutare a vivere il tempo della prova con più gioia. Chiedo a Dio che vi benedica, aggiunto, e accompagni voi e i vostri familiari, tutte le persone che lavorano in questa casa e fanno in modo che quei sorrisi continuino a crescere ogni giorno. Al termine dell'incontro, il Pontefice ha visitato in forma privata l'unità di Amato Oncologia dell'ospedale, confortando e rassicurando i bambini degenti e i loro familiari. Grazie a tutti.